che succesi qua però però no 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 ebbene sì ragazzi buongiorno a tutti mi sto emozionando è arrivato l'inverno 12 gradi si sta frischi frischi mi piange il cuore dopo un'estate che veramente ha giusturato pure l'acqua ruba attesa bello ci voleva ci voleva ma proprio tengo proprio un cuzzetto fresco sai quando tenivo un cuzzetto tutto gelato bellezza Mario Rui e intanto vi lascio qui sulla destra la scommessa che abbiamo fatto il bolletto 1 episodio 7 6 non mi ricordo non mi ricordo mi raccomando mi raccomando oh mi raccomando non mi venite a scrivere sotto sì però per me aglio so bolletto e la faccio si esce esce se non esce non esce semplice you understand you understand semplice mamma mia che spettacolo voglio diluvia diluvia è un spettacolo ciao baby ciao ciao